Ora facciamo un commento a quello che è il corso del libro. Questa seconda edizione del libro è nata dalla mia volontà di poter ampliare e non ha detto, oltre a mancarsi all'interno, o anche perché mancavano gli elementi, perché il faremano da parte di me che sta vedendo. Sì, ci sono certiplici anni che non si è dato, ma non si è dato che ho fatto. Quando abbiamo affortunato di essere stato applicato a passare da Rosola, e oggi sono 100-120 cani, quasi 300-120 cani, che dimostravano una complicità, sono molte differenze, c'erano soggetti verdi a tutti, verdi, insomma, si vedeva così, fatto da queste persone, e aveva un po' preciso, cioè quale, quello, di attenersi a quello che ha definito, piuttosto, ma, per questa cannetta, la canina, è altissima, la canna, 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 una testa, una testa, puredente, diminuta, ma è più semplice, intanto, lineamente, continuiamo, di assozi, sono, sono agentini, rispettando al maschio, che poi, che redondo, ma, chiama, ci ha avuto, dicevo, la canna, la canna, la canna, la canna, la canna, la canna, Adesso le orecchie, come vedete, devono essere triangolari a ciavatta, ma sull'estremità, che lo sono, la sua lunezza deve essere, perché non supera il centro della fatta da sale. L'attaccamento, l'attaccatura delle orecchie deve essere sopra la linea del corpo, che è nata, è nata a cura, è nata a cura, è nata a cura, è nata a cura che vuol dire che è nata senza cura, perché i cani possono essere a nulli, o a cura, oppure sono a cura lunga. E lo standard del secondo premio ha rispettato tutte le persone. Il secondo mareffano è sempre stato adicuato a Cacciairetta della mareffa, dove l'arte, il libro che ho scritto è chiaramente la tipologia del posto, ma se mi conosce il posto della mareffa sa qual è l'altro.